Bella a tutti da Big Pork, eccoci qua in questa nuova gara, questa gara si chiama Extreme Boost Tunnel Vi dico che questa gara l'avevo registrata, è solo che non è partita la registrazione Però siamo gli stessi della scorsa gara, quindi la conoscono tutti la carerita Sì, grazie, molto molto gentili, si inizia già bene Allora, andiamo, che poi se non mi sbaglio aveva vinto Ant Paolo con l'XA21 quando non avevo registrato Andiamo E' lì il check Veloce, XA21, più veloce che puoi, mamma mia che tunnel, guardate che spettacolo Non è niente di che questa gara, però E' una gara diversa dal solito Madre mia, sono io, sono io Primero, primero, dimmi di sì sui, per favore L'unico problema di questa gara, sapete qual è? Che non si vede il check giù, vedete, dove sta il check, dov'è? Ok, si vede, perché quando prendete il turbo sparisce Sparisce il check ogni tanto, ok Allora, salflash, nooo, regà Però, aspettate, non è che non è niente di che E' un face to face dentro il tunnel, è solo che è piccolina come gara Andiamo Qui è arrivare i primeri, ve lo dico Ci vuole un pizzico di fortuna, ma proprio un pizzico, state tranquilli Non mi dice quanti secondi è Ant Paolo Oh no, 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 un'altra volta no, eh Ok, ok Andiamo Uh, mi ha detto Primero per un attimo, no Aspettate, eh, dov'è il check? Primero era Ant Paolo, però si è suicidato Dov'è, dov'è il check? Regà, non lo... Ok, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Zitti, zitti, zitti Qua? Si, ho preso Primero Mi ha detto per un attimo Primero, eh Non so se sto dritto, è meglio Cioè, è meglio fare i giri o è meglio stare dritti Sinceramente non lo so, sapete Però il Primero è salflash Io sono secondo Credo che sia proprio quello salflash, eh Sì, sì Ok, check ha preso, mi dice primo Eh no, non sono primo Primo è l'ore, sì, sì, sì Rimaniamo così È bello, però, questo è un boost tunnel, regà È spettacolare, eh Bella miniatura, sui No, regà, niente Nooo Non l'avviate mai Non avviate mai Rockstar Editor Quando fate questa carerita Ma come l'ha messo il check? Zitti, ho sprimero No, non sono Primero Perché trolla così tanto sta cara? Mi aveva detto che ero Primero Mi ha preso in giro Quanto siamo? 2 minuti e 21 di cara? Di questo extreme boost tunnel Però, regà, è difficilissimo Sì, ho pure settimo Perché Non lo so perché No, no, no Primero, sì Settimo, Primero Primero, settimo Settimo, Primero Primero Ok, va bene No, non so Che è successo all'XA21? Come stiamo scendendo, regà? Non ho idea Abbiamo Rockstar Editor di nuovo, regà Magari ci va a fare la miniatura Sì che ce la fa fare Sì No, no, no Check, check Vieni qua No, non sono Primero, regà Sono Primero Sì che sono Primero Wow, wow, wow Se vinco questa carrerita non lo so, eh Se vinco questa gara Posso vincere qualsiasi gara Ve lo dico Oh, no, regà Sto guardando indietro Ho capito che non si guarda indietro Però C'è una miseria Non si esplode Veloce No, regà, Lorenzo Regà, da Primero Ma cosa è successo, vorrei sapere Non lo so È la vita di questa carrerita, regà Che dobbiamo fare Settimo Quando mi dice Settimo Arrivo Primero, eh Questa è la legge del Face to Face Extreme Tunnel Eh no, si è fregata la Primera Era la mia, regà Non so, io credo Ma almeno un podio Lontanamente Ma lontanamente Un podio Terzo Quarto Settimo No, no, questo no Settimo no Eh, va bene tutto Però se Oh, pure il podio So fregare Eh, va bene, regà Questa è la vita del Face to Face Extreme Tunnel Andiamoci a prendere Non lo so, quarto Quarto, sì Comunque sia Se vi è piaciuta questa mini gara Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate nel mio primo canale Porkmods E noi ci becchiamo al prossimo video Bella